Il sinistro lo vedo sguarditissimo, andiamo va Ok C'è un po' di riflesso, sono ancora riuscito a capire esattamente chi sei? Cristo, ok Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto lo suo team Eccoci qui per un nuovo video, breve ma intensissimo E' intensissimo anche perchè questa volta assisterete a un bello scontro SWAT contro SWAT, in questo caso Joe contro di me Will non era in campo perchè stava finendo di sistemare un'arma Preparatevi subito perchè più che uno scontro sarà un massacro Perchè veramente con la forma di Joe in questa partita non c'era nulla che si potesse fare Una macchina per uccidere Tutto quello che ho potuto fare è stato prendere un po' in giro E cercare di dargli fastidio verbalmente prima dell'incontro In cui sono stato letteralmente massacrato Ma lo vedremo più avanti Ma prima di arrivare a me dovrò affrontare un nemico ben più temibile Figa ci sono le vespe qua Io nel mentre me la cavo un po' meglio in zona centrale senza le vespe darmi fastidio Joe ho problemi con l'op-up, non è che usciresti allo scoperto così ti sparo e lo regolo Succhi a meno lungamente Sfottò a parte mi rendo però conto che sulla sinistra non c'è praticamente nessuno della nostra squadra E Joe ne approfitterà E dalla sua prospettiva si vede decisamente bene come questo lato era scoperto Basta un po' di fuoco di soppressione e riesce facilmente ad avanzare E io cerco di organizzare un minimo di difesa ma come vedremo tra poco è già troppo tardi A me di scolpa posso dire soltanto che essendo il primo game non c'erano ancora le fasce Ed ero entrato dopo quindi non avevo visto esattamente quali erano le squadre Torniamo un attimo indietro e questo mi ha servito riguardare il video per capire come ho fatto a venire eliminato Anche ma quando mi sporgo vedo un ragazzo che si dirigeva all'interno della struttura dove poi si trovava Joe Il ragazzo con la giacca marrone Pensavo vista la direzione in cui si muoveva che fosse nella nostra squadra Ma invece come vedremo tra poco era nella squadra di Joe Così quando lui sbuca da un settore che pensavo coperto da un nostro compagno di squadra Vengo eliminato senza poter colpo Ma torniamo dalla prospettiva di Joe perché da questo momento in poi farà veramente una strage La doppia eliminazione di me di Christian gli lascia completamente libera la zona sinistra nostra e destra sua del campo E vedremo che nella sua prossima offensiva capitalizzarà decisamente questo vantaggio E qui eccolo continuare la sua strage Multi-Kill Ultra-Kill Dominate Monster-Kill Rampage Headshot E questa quantità di danni può aiutarvi bene a capire Quanto è importante non perdere un lato del campo In quanto un solo avversario ben carico che riesca a prendere posizione e accoglierlo allo scoperto Può fare danni veramente ingenti Sfortunatamente alla fine si trova allo scoperto Ed eliminato da un avversario che è rimasto più indietro Finendo così la sua partita E con la sua partita finisce anche il suo game Un game decisamente efficace Vista l'ingente quantità di danni che ha fatto E mi raccomando se vi ha fatto piacere Lasciateci una bella iscrizione sulla pagina E un bel like al video E veniteci a trovare anche su Facebook e su Instagram per tanti altri contenuti Da Eric e da tutto lo suo team un salutone Complimenti a Joe e ci vediamo alla prossima Cosa? L'atello ha galarato Ma almeno è quello originale